Era da un bel po' che non si vedevano queste cose ad Alcova, perché bisogna dire che negli ultimi anni il sistema di raccolta dei rifiuti è andato bene, i cittadini hanno anche molto collaborato. Adesso qui non è più però a questo punto una questione di cittadini e tantomeno del servizio, ma ci sono problemi che provengono direttamente dalla regione e soprattutto dal futuro. Questa situazione che voi vedete è un po' sparsa per la città perché il comune ha già avvertito, già quando c'era il commissario, che qualche turno sarebbe saltato. Questo è il punto di incontro, peraltro uno dei punti di incontro dove i piccoli camioncini si ritrovano e poi i camion grossi prendono l'immondizia, la portano a Borraneo dove devono scaricare. Ma siccome la situazione è particolarmente critica, anche lì si ritarda, saltano i turni e avvengono queste cose. Ci si avvia adesso verso l'estate, come peraltro più è stato detto, questo è un centro abitato. I sacchetti di rifiuti sono un po' da tutte le parti, per le strade, la situazione è più critica un po' nelle periferie, ma anche i condomini per esempio, che hanno accumuli anche abbastanza sostenuti. C'è da vedere adesso come si potrà risolvere la situazione che deve provenire come risoluzione direttamente dalla regione per un piano più complessivo e soprattutto cercare di capire anche qui ad Alcamo che cosa succederà ad Alcamo Marina, perché Alcamo Marina verrà abitata, ad Alcamo resteranno tantissimi abitanti, ma Alcamo Marina verrà abitata durante l'estate e ovviamente i rifiuti si accumuleranno. Quindi doppio problema che già c'è sempre stato e doppia situazione da risolvere in poco tempo.